Ben ritrovati dal vostro Fabri Fibra News Videoludiche, la rubrica che va in onda dal lunedì al venerdì qua sul canale Danimaggio. Oggi parliamo di Quantum Break, l'esclusiva Xbox One, non si riesce a capire infatti se sarà o meno rimandata al prossimo anno. Con un tweet da Ejim, coordinatore dei social media presso Microsoft, aveva annunciato che Quantum Break sarebbe stato rinviato al prossimo anno. Le motivazioni apparentemente erano da imputare ad una richiesta maggiore di tempo per la fase di ottimizzazione del titolo. L'esclusiva per Xbox One presso Remedy non aveva una data di uscita ufficiale, ma solo un generico 2015. Concludiamo però dicendo che il polverone mosso dal tweet precedente di Dai Ejim ha portato lo stesso tramite un tweet di rettifica a smentire, seppur in modo molto blando, quanto detto da lui in precedenza. Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione. Poco fa tra l'altro Vanna Marchi era parecchio scocciata per quanto riguarda questa faccenda. Ecco il video che mi ha mandato tramite Whatsapp, io vi saluto, bella raga, dal vostro Fabri Fibra. Sì, sì. Sì, 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 sì. Non è possibile! Non è possibile! E allora io vi dico, signore.